La tempestività dell'intervento di una pattuglia dei carabinieri in via Osta, angolo Corso Alessandria, che transitava in zona e la chiamata ai soccorsi di una signora che stava portando a spasso il cane, hanno salvato la vita di una donna. È accaduto oggi, poco dopo le 16.30, a Venere Reale. Una donna di 54 anni ha tentato di togliersi la vita. Era su una Twingo parcheggiata, con il motore acceso e un tubo da un lato collegato alla marmita e dall'altro rientrante nell'abitacolo del bagagliaio. Una donna che stava portando a spasso il cane ha notato la vettura e ha subito allertato i soccorsi. Nel frattempo, fortunatamente, stava transitando la pattuglia che è subito intervenuta. La donna è stata affidata alle cure dei sanitari della Croce Verde e trasportata all'ospedale Maria Vittoria. I vigili del fuoco di Venere Reale, giunti immediatamente sul posto, hanno tolto il tubo e messi in sicurezza l'auto. Al momento non si conoscono i motivi del gesto. Sicuramente la donna è stata fortunata perché la zona è molto isolata ed è per questo motivo che lei l'aveva scelta.